Il vivere in una città o in un certo territorio è operazione estremamente difficile. È una delle tante analisi del Veneto e dei Veneti di Ulderico Bernardi, scomparsa oggi all'età di 84 anni al Cafoncello di Treviso dove era ricoverato da qualche tempo. Nato a Doderso nel 1937, scrittore e seggista professore a Cafoscari ha dedicato la sua vita allo studio di questa regione e di chi la abita. Dalla cività contadina in metalmezzadri fino al Veneto post-industriale Bernardi ha esplorato la nostra terra partendo dalla tradizione e passando all'immigrazione e arrivato al Veneto imprenditoriale e al fenomeno dell'immigrazione dei nuovi Veneti. Tanti saggi pubblicati, così come infinite le lezioni, le interviste televisive e gli interventi sulla sua regione e sulla sua gente. Lo considero la stregua di un gioco. Una vera e propria passione, la sua, che rimarrà nelle tante pagine scritte ma anche nelle immagini televisive, ricordando che Ulderico Bernardi è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Bassano TV. Oggi Gruppo Media Nord-Est.